Oggi in conferenza stampa avete presentato le iniziative dei Borghi della Riserva Danunziana, questa associazione che proporrà diversi eventi in estate in città. Sì, degli eventi molto importanti che vanno a confluire in tutte le attività della rete permanente del libro e della lettura che come amministrazione comunale stiamo cercando di promuovere e valorizzare sempre di più. La lettura è tanto importante soprattutto nel periodo di pandemia, molti hanno riscoperto la lettura perché era difficile relazionarsi, era difficile stabilire incontri con gli altri. Ecco, in quest'anno di ripresa ritornano, così come c'erano stati anche negli anni precedenti, le possibilità di incontro per confrontarsi sui libri. Vogliamo parlare un po' di alcuni eventi che si terranno quest'estate in città? Sì, grazie all'Associazione Borghi della Riviera Danunziana abbiamo organizzato alcuni eventi, anche in continuità di quello che abbiamo fatto negli anni precedenti. Principalmente sono i gelati letterari che facciamo sulla terrazza La Playa. Lì siamo al quarto anno e sono dieci giovedì di tutti e tre i mesi estivi. Una cosa molto impegnativa che coinvolgerà per ogni serata tre autori, tre intervistatori e anche un artista. Quindi sono serate ricche e anche divertenti perché lo facciamo in un ambiente marino gustando un gelato. Tre eventi tra gli altri sono quelli del Notti di Luna Piena. In occasione della Luna Piena, nel sabato più vicino, noi faremo delle kermesse dove coinvolgeremo autori e scrittori per recuperare sia gli autori del passato, perché non devono essere dimenticati e quindi la cultura poggia sulle loro spalle, e poi anche agli autori contemporanei in modo da fare delle serate di grande interesse. Grazie a tutti.